Benvenuti alle pillole di edizione fonetica di Corsi Bologna con Cristiana Raggi. Oggi vedremo altre due consonanti, quelle che vengono chiamate le labiali, e cioè la B e la P. Labiali perché vengono emesse solo con l'uso delle labbra. Andiamo a vedere tutto quello che dobbiamo fare a livello articolatorio prima dell'emissione di queste due consonanti. Partiamo dalla prima, partiamo dalla B. Allora noi avremo le labbra che sono chiuse prima dell'emissione, le arcate dentarie sotto saranno chiuse, la lingua sarà rilassata, il velo palatino sarà alzato e le corde vocali saranno attivate. L'emissione di questa consonante è per via diciamo esplosiva, cioè quando apro le labbra la consonante esplode fuori e cioè succede questo. B, B, B. Proviamo a metterci una vocale vicino. Ba, ba, ba. Proviamo ora a vedere invece l'altra consonante, la P. Abbiamo visto negli altri video che in linea di massima c'è sempre una consonante sonora e una invece sorda. La sonora era la B, la sorda invece la P. Per cui la P verrà emessa nello stesso modo della B, l'unica cosa differente saranno le corde vocali che in questo caso saranno inattive parole e quindi verrà fuori una cosa di questo genere. Infatti se noi andiamo a sentire questa consonante all'interno di un'altra parola tipo parola, parola, sentiremo che la P è soltanto in esplosione e che non stiamo usando le nostre corde vocali. Se invece dico babbo, babbo, sentirò che il suono viene fuori anche quando dico la consonante B. Bene, questo è il video che vi introduce l'articolazione di queste due consonanti labiali. Per oggi è tutto, io vi saluto, un grande saluto da Cristiana Raggi e ricordatevi a un certo punto qualcosa cambia. Grazie a tutti.